oh mio dio oh no non so se è un po' triste signor rafael ma lei è la rana lei è quella rana signor rafael lei è quella rana è quello che sapeva tutte le parole è la rana no signor rafael ma allora io sono ultimo cioè nel senso voi due vi siete allenati lui sa già le parole cioè io come devo vincere che me lo dici schecchiere che aspetti ok cosa è successo schecchiere schecchiere che cosa è come hai fatto a scriverlo ok ma anch'io fate una fila tra voi due si e va bene stupendo particolare particolare attraggiatissimamente utero noi lati utero e lui particolare bellissimo ficcante non è abbastanza lunga hai perso eh oh eh non è con ficcante trigonometriche eh le funzioni trigonometriche turbinazione turbinamento mi sembra una parola puntagrueliche pantagrueliche non so cosa vuol dire pantagrueliche arcivescovo eh bello però vuoi mettere anche il mente però elettroencefalo si va bene è stupendo giocare è stupendo vieni più spesso esatto boh minchia la prossima volta di una letterina in meno mi va vabbè amore abbiamo un professionista ha scritto la prima parola corta cosa sta succedendo rana ah ok bravo ripigliati dai 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 una bellissima bello bello anglofobo mamma mia così magico così magico è completata la frase ci sarà il momento in cui scrive una parola già scritta è vero che ha scritto una parola lunghissima ed è già stata messa si ma il punto di scrivere parole lunghe è che non ti riverrà di scrivere la stessa parola lunga per cui puoi scrivere quelle corte non è vero è una buona tattica eh 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 potrebbe anche scriverlo scusa ok dai amore ce la posso fare ehm quant'è dura? beh Udus rana poi dopo mi puoi scrivere un attimo il lavoro che fai giusto? no io non mi arrendo non mi arrendo eh eh... eh eh... eh... ehh.. grave punto no è finita 말씀 ma è finita raga come- che era COMMITS? Rana posso farti una domanda? sono stato un degno avversario Sono stato un degno avversario Ma mediocre Va bene Non sono un tryharder di questo gioco Mi fermiamo a degnissimo Cioè a me va bene anche che sono stato degno